Ciao a tutti ragazzi, finalmente finalmente è arrivata la Collector di The Last of Us Joel Collector Edition Ritirata fresca fresca oggi da GameStop Nella pausa pranzo sono corso a prenderla Qui abbiamo questa bellissima scatola dove contiene tutto il materiale della Collector Qua vediamo il nostro Joel con la piccola Ellie Qua dietro invece Questa edizione speciale include Vediamo un po' Un cover per un pa' La maglietta bla 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 Che che ammazzi E se fossi tu l'ultimo sopravvissuto Oddio Bene 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 Come vedete è chiusa Andiamo a vedere un po' Il contenuto Voilà Ora iniziamo a Questo Lo mettiamo un attimo da parte Qui abbiamo la cover per l'iPhone Facciamo una bellissima cosa Facciamo il La mettiamo subito Voilà Eh Pronti Poi Qui abbiamo la maglietta di Last of Us Questo abbiamo il codice della Collector Che anche se voi vedete il codice non fa niente Qui vedremo poi dopo cosa c'è E qui dentro non c'è più nulla Quindi Allora questo scatolame Lo Lo mettiamo Lo mettiamo via Qui E la maglietta la usiamo come Sfondo Sfondo Voilà Aspetate un attimo Perché qui È veramente tutto enorme Ora qui abbiamo Un'altra cosina Sempre chiusa Mannaggia Mannaggia Prendiamo le Forbiciuzze Per Tagliare Ecco Questo praticamente è tipo Un astuccio Se vogliamo Un astuccio Stoffa Con The Last of Us E il nostro Joel Logo della PlayStation Mettiamo qui così E andiamo a vedere un po' Ah qua c'è tipo il feltro Che lo tiene dentro E vediamo un po' Cosa c'è qua dentro Allora Iniziamo Da Uno stickers Naughty Dog Che Vabbè Qui c'è un Praticamente è un libro a Fumetti Fumetti In italiano Molto bello Stupendo 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 E qui abbiamo Abbiamo Altri codici Il disco di gioco Trafigurata la nostra Ellie In parte Joel E qui c'è il Librettuccio Librettuccio Niente di che Semplice Semplice Ok Mettiamo un po' In ordine Questo è il La cover per il pad Che non penso di Di usare Perché c'è un pad solo E un adesivo E qui signori e signori Abbiamo l'artbook Ma molto Ma molto Ma molto Bello Che non sto qui a farvi vedere Tutto per Magari chi non l'ha ancora preso Magari dopo dice Tipo Carta Fotografica Non tanto lucida Ma comunque E' un bel Un bel Artbook E qui dentro Cosa abbiamo ancora? Dovrebbe essere Un Poster Il poster Di Joel Qui del last Pass Che piegherò Poi Più avanti E ora Vediamo cosa c'è dentro In questo tubetto Ah Che Questo tubettino Qua Non ho idea Di che cosa Ci sia dentro Voilà Ah c'è dentro Un altro Poster Oh Questo copero è veramente Bello Non sto qui ad aprirlo Ma Ah no Non è un poster È praticamente Una Una skin adesiva Da mettere Sulla 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 Slim Ovviamente io C'ho quella cicciona Ah ma no Ma è per Quella cicciona Cavolo Cavolo Bene Cazzo Quasi quasi La trasformo La mia Piccolina No dai Non lo sprechiamo Così Quindi gente Ricapitoliamo Hardbook Gioco Fumetto Adesivo Cover per il pad Cover Per la playstation I vari codici La maglietta Che è rimasta sotto E tutto dentro In questo bellissimo Astuccino Andiamo a rimettere dentro Tutto A parte I codici Azi Che 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 Rimetterò In Insieme Voilà The last of us Questo è l'unboxing Della Joel Edition E niente Vi aspetto Ai primi Gameplay Ragazzi Ciao ciao Da Genetic DNA Ciao